Ci troviamo davanti l'ex colonia marina su lungomare Pietrenere di Pozzallo, un immobile vittima della mala amministrazione della cosa pubblica, della burocrazia e quindi in questo momento chiuso. E per questo combatte ormai da anni il signor Ciurcio, per poterlo trasformare in qualcosa di interesse pubblico, un centro polifunzionale per le disabilità. E dopo firme, dopo incontri, adesso arriva l'ennesimo stop da parte della regione e sinceramente ancora non si capisce il perché. Noi siamo con Giovanni Ciurcio che già nel 2012 diede vita alla fondazione Yolanda e Francesco Ciurcio Onlus. E quindi affinché le persone capiscono che cos'è che le dà l'energia per continuare questa battaglia sulla burocrazia, perché crede in questo centro e perché crede appunto in un sostegno sulle disabilità? È stato da molto tempo che alla fine un giorno ci siamo guardati negli occhi con mia moglie e abbiamo deciso che i cosci della vita che abbiamo fatto per 43 anni con due ragazzi disabili, purtroppo ormai morti tutti e due, di utilizzare il nostro patrimonio per far sì che famiglie come noi non vivessero gli stessi drammi e gli stessi problemi che abbiamo vissuto noi. Volevamo fare qualcosa a sostegno del mondo della disabilità. Ha avuto problemi in principio, però la disabilità continua ad averne anche adesso. Perché continuiamo a parlarne? Perché questo centro è ancora chiuso quindi? Perché quando la scelta cadde sulla colonia marina io mi sono mosso senza cercare né padri né padrini. Io mi sono rivolto alle istituzioni del mio paese. Le istituzioni del mio paese hanno verificato se la fondazione aveva i titoli per avere questo bene, ho chiesto il bene, le istituzioni hanno fatto delle relazioni altamente positive a favore della fondazione, tant'è che l'iter inizia l'agosto del 2014, quindi prepariamo i documenti, prepariamo tutto, è in quel momento che io ricevo il primo ricatto. Cioè fermo, dobbiamo andare avanti? Ok, va azzerato il consiglio di amministrazione, non deve essere la città di Pozzallo a manifestarlo, ad eleggerlo, ma sono altri che devono nominare tutto il consiglio di amministrazione. Si blocca tutto, mi dicono che l'intervento sulla colonia non va fatto, succede un terremoto con il demanio regionale di Palermo, possono dire quello che vogliono. Io non mi fermo, per me non è ormai un problema colonia, struttura per disabili, per me è un problema di dignità e di moralità. Io ricatti non ne ho mai accettate in vita mia, non ne accetto nemmeno ora. Guardate, io voglio fare una struttura per i disabili, la dono alla città di Pozzallo, è pubblica, non c'è niente di privato, quale migliore occasione di questo? Non chiedo nemmeno questo trattamento, ditemi quanto devo pagare. La politica sicuramente non può restare indifferente di fronte a una storia bellissima, perché questa è una storia di solidarietà e di generosità. Il sospetto è quello che questo immobile, chiuso dal 1945, è abbandonato, non è mai stato oggetto di interesse di nessuno, dopo l'operazione della famiglia Surciu, abbia attirato gli appetiti di altre persone e quindi adesso questo immobile rischia di diventare l'ennesimo caso di speculazione edilizia. Abbiamo già tantissimi alberghi e ristoranti, non si può pensare di trasformare una struttura del genere, di fronte al mare, di mani marittimo, che può diventare una struttura di bene pubblico per una causa nobile come quella della disabilità, in l'ennesimo albergo. Grazie a tutti.